ha un'azienda importante ha un'azienda molto importante che lavora i metalli lavora tutta una serie di strutture di materiali che sono fondamentali in questo paese le famose leghe allora qual è la situazione perché il presidente Bonomi è stato molto duro dice la situazione è grave lo stesso presidente di Asso Lombarda qual è la situazione? ha ragione ha ragione dottore siamo molto preoccupati adesso parlare di economia e parlare della nostra situazione quando ho visto queste scene drammatiche sembra di sottovalutare il problema delle morti però devo dire che anche l'economia italiana e europea è sotto attacco siamo passati dal covid poi adesso c'è il problema energetico il problema energetico trascina l'inflazione trascina il debito pubblico è un disastro e noi che dipendevamo al 50% da Gaspron dirci che dobbiamo completamente interrompere l'autonomia che dovremmo avere senza la Russia direi che è un'assurdità le devo dire che noi in tre unità operative abbiamo bloccato il costo dell'energia elettrica è stata una fortuna fino alla fine del 2022 ma è un problema rimandato ha ragione De Manistris a dire dobbiamo fare in fretta perché le aziende non possono più reggere questi aumenti del 435% è aumentata la corrente il gas addirittura 5 volte tanto come può un'azienda portare avanti quindi ci sarà un discorso addirittura di un crollo economico ci sono già parecchie PMI che stanno chiudendo noi qui a Brescia che è una città energivora nel campo del rame nel campo dell'acciaio nel campo dell'alluminio abbiamo tamponato un po' la situazione cercando di fare i turni lavorando solo la notte in modo da approfittarne per quanto riguarda il discorso energivoro delle ore notturne che costano un po' meno ma dovevamo partire prima questa guerra deve finire velocemente perché se le aziende non possono reggere diventerà poi una guerra sociale scusi Loretta Loretta il problema